Benvenuti a VGiappone, ho un messaggio molto importante dalla città di Sendai. Iniziamo! Facciamo del nostro periodo insieme. Andrà tutto bene. Mi manca di amici italiani. Amo Italia. Ce la faremo. La città di Sendai ama l'Italia e spera che questa situazione finisca presto. Ce la faremo! Ce la faremo! Amo Italia è il comitato interno alla città di Sendai atto a far conoscere a tutti gli abitanti della città l'Italia come paese e come usanze e anche come lingua. Io sto collaborando con loro perché Sendai è diventata la host town dell'Italia durante i giochi olimpici. Purtroppo non più 2020 ma 2021. Quindi verranno molti atleti qui a Sendai, si allenereranno qui e alcune partite saranno anche nell'aria. Quindi insieme a Amo Italia il nostro obiettivo è far conoscere appunto il nostro bel paese. E ho chiesto a tutti quanti di partecipare a questo video per mandare un messaggio forte, un messaggio d'amore all'Italia. Spero che questa sorpresa vi sia piaciuta. Condividetela se l'avete apprezzato. Come sempre vi di Giappone è tutto. Iscrivetevi, condividete, te vi piace e commentate. A frappè! Forza ce la faremo! Ce la faremo! Italiano minasan, gambate con stai! Forza Italia! Forza! Grazie! 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 Grazie!